Siamo a Brescia il 21 marzo 2018 per presentare un'iniziativa che abbiamo organizzato come Rete Comuni insieme alla UIF, quindi Banca d'Italia, al Comune di Milano. È un'iniziativa che ha coinvolto anche i comuni di Brescia, Bergamo, Mantua, Cremona e Monza sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio finanziario. È un'iniziativa che mira a formare il personale di vari uffici e delle amministrazioni comunali che saranno poi coinvolte nell'attiva ricerca e segnalazione di fenomeni anomali sotto il profilo del riciclaggio finanziario. È un esempio di partnership molto interessante e molto forte che si è venuta a creare tra amministrazioni comunali che insieme facendo Rete sono riuscite a creare le condizioni per creare poi delle sinergie e collaborare con soggetti istituzionali come nel caso specifico l'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia nel fare vera innovazione e fare vero governo del territorio.